Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione E poi Minerva ha parlato del sole E di un disastro avvenuto molto tempo fa E di un altro che sta per venire In un futuro lontano, vero? Allora non abbiamo di che preoccupare Sì Forse il nostro lavoro è finito Non sarebbe poi così male Abbiamo potenziato l'arsenal A tre rivia Adesso è osanza accogliere i visitatori A colpi di cannone? Chiedovenia Li abbiamo fatti montare appena qualche giorno fa I miei uomini si stanno ancora addestrando Andiamo! Bentornato Ezio Ezio! Guardate Ezio! Fatemi vedere Buongiorno Salute Mario! È bello essere a casa Guardateli un po' quei due Questo borgo diventa sempre più bello Vai vai! Grazie a te Fratello! Claudia Fa piacere tornare a casa E nostra madre? Sta bene Avevo sentito dire che stavi tornando Ma sono lieta di vederlo coi miei occhi La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto Non pensavo che fossi tanto famoso Caterina È qui? È finita dunque Lo spagnolo è davvero morto Stasera raduna gli altri nello studio di Mario Vi spiegherò tutto lì Preparati Ezio Sarai bersagliato di domande Claudia Di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.